Allora, ciao ragazze! Oggi volevo condividere con voi l'esperienza di questa mia cara amica che ha iniziato un percorso ayurvedico. Puoi raccontare cosa è successo in soli 15 giorni? In soli 15 giorni è successo tutto quello che ho sempre sperato in tutti questi anni da quando conosco Sabrina. La quando la conosco ho sempre fatto dei trattamenti con lei, ma devo dire che questi trattamenti sono veramente il massimo di quali che ne devo trovare. Praticamente nel giro di 7-8 trattamenti mi sono ritrovata con le gambe letteralmente sgonfie, cosa che io non ho mai avuto in vita mia. Soltutto nel periodo estivo, con il caldo, ho sempre avuto le gambe molto gonfie. Adesso io veramente, ma le gambe sono molto belle, sgonfie. Le mene si vedono molto bene, le mene si vedono molto bene. Per quanto riguarda poi anche l'addome, che io ho sempre avuto un addome abbastanza preoccupente. Diciamo che anche come addome ho perso tantissimo, tanto è vero che l'ho misurato stamattina e ho perso 5 cm di addome. Quindi devo dire veramente grazie a Sabrina. Per quanto riguarda il mio viso, anche il viso è cambiato. Cioè io praticamente sono abbobbiata. A volte mi sento persino a riconoscermi. Veramente. Cioè questi trattamenti arrivano via a PC e vedo che questo è veramente il massimo. Ciao a tutti.